Ciao ragazzi, sono Stabbeck45 e oggi andiamo avanti con Delve Eravamo rimasti al livello 2 per andare al 3 Allora, siamo sempre più giù Nella scorsa puntata si è raccolto un po' di esperienza per serie di livello E a metà delle registrazioni mi andò via l'audio E ho sempre più il discorso della scheda audio Che appena risolvo la manda a quel paese e muori Vieni qui Sì sì Muori BOOM Strons Allora al 5 ci sei Ci ha mollata una bacchetta 6 Allora 5 Ottimo Allora allora, che altro c'è? Da notare che ha cambiato anche la soundtrack di sottofondo Oh, un'amuleta Questo qui è un elemento nuovo del gioco Qui c'è sempre stato lo stronzino, un bisteccone Oddio, un altro 4 Bene Disparo E sì BOOM Sbriciolato Ce l'ho all'arco? No, ottimo Allora, allora, che c'abbiamo qua? Un cazzo Faccio Oh madonna un altro Sto facendo poche puntate apposta per evitare Cioè perché Mi darebbe noia mandare a puttane una parte Per via di questo problema Quindi Sto andando pian pianino giorno per giorno Poi o almeno Quando risolvo il problema Riparto Ecco, scassato Sì, almeno posso fare tipo Prince of Persia tranquillamente Senza Avere strani problemi Allora Che c'è un cica Che c'è un cica Venti là Ok Abbiamo fatto tipo una specie di girotondo Ora si va da qua Trappolina Ecco L'ho presa in faccia Porca Non tolto 6 punti vita Assassino Non c'è nessuno Sì? La 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 Pixel su Pixel zoom Oh, dove cazzo mi sta andando a far sparire? Oddio Un talpone Pistrallo Tipi pistrallo in testa Oddio Che cosa qui Morse Vieni qua Bravo la fazioncina della cura d'oro il calzettino per saltare di livello ok ci sa tutto non è stata una puntata molto lunga però vi ricordo che avendo questo problema cerco di esplorare il più possibile del dungeon però anche di tagliare prima possibile nulla mettete un bel mi piace iscrivetevi alla fanpage facebook e al canale per seguire il prossimo video ciao a tutti e alla prossima